A Ponte d'Era un girone fa il Pescara toccava il fondo e lo faceva anche il tecnico Gaetano Auteri sull'orlo dell'esonero. A distanza di un girone la squadra non senza fatica ha intrapreso un percorso di crescita. Auteri glissa su quei momenti e sulla contestazione del Mannucci ma spiega cosa è cambiato da allora. Intanto siamo figli di una retrocessione. Quando retrocedi qualche colpa c'è. Non è che tutti vogliono i tuoi giocatori che comunque hanno dei diritti, mantengono i contratti, speri sempre che possono far parte del progetto anche chi pensa di andare via e questo purtroppo non avviene e in tanti momenti abbiamo vissuto di questo tipo di speranza però poi il risultato finale era sempre diverso quello pratico in campo. Adesso c'è un gruppo consapevole che è stato ulteriormente migliorato nel mercato di gennaio. Siamo in un altro percorso. Secondo me abbiamo tanti margini di crescita in alcuni giocatori che sono arrivati dopo. Mi riferisco a Pontissimo, a Cernigoni, a Ierardi però complessivamente il gruppo sta bene. L'obiettivo è il terzo posto e l'eventuale sorpasso alla Cesena che comunque dipende anche dal rendimento dei romagnoli deve avvenire al più presto. Auteri spiega perché. Gli obiettivi sono quelli domenicali, ora cinque partite, secondo me l'ultima conta poco, chi è avanti sarà avanti all'ultima. Sono queste quattro partite determinanti e soprattutto queste tre prima della piccola pausa di Pasqua. Nuo forfè per Mirko Drudi, squalificato in grosso spazio a Ierardi al centro della difesa in coppia con il Lanes, Zappella e Veroli sulle due fasce, in mezzo Oké, Pontisso e Pompetti che girano i fianchi di Derisio con Djambo e Memuschai pronti della panchina. In avanti con Rauti recuperato ma reduce da alcuni giorni con l'influenza, conferma per il trio Dorsi-Ferrari Clemenza. Assenti l'infortunato Chiarella e i nazionali Blanuta e Sorrentino, quest'ultimo avvicendato da Iacobucci. A parte che Iacobucci e Di Gennaro sono due grandi portieri, giocherà Iacobucci perché rispetto a Di Gennaro, che come sapete ha un infortunio superato ormai abbondantemente, ha più continuità di lavoro, semplicemente per questo non è una bocciatura per nessuno, sono due grandi portieri, due ottimi professionisti, due ragazzi esemplari veramente, però giocherà Iacobucci, i motivi li ho appena spiegati. Nel Ponte d'Era squalificati l'esterno Milani, in gol all'andata, è il centrale Specie. Nel 3-5-2 davanti a Melgrati, spazio a Shiba, Matteucci e Bakayoko, per retta e regoli gli esterni. In mezzo il capitano Caponi, tornato 20 giorni fa alla piena attività dopo pesanti strascichi del Covid, potrebbe strappare la maglia a uno tra l'ex Foglia, Serena e Barba, ex virtuale biancazzurro quest'ultimo. Davanti uno tra Mouton e Benedetti, al fianco di Magnaghi. Il Ponte d'Era è una squadra che gioca un 3-5-2, una squadra che fa molta densità, che si difende molto bene nella propria metà campo. Lo abbiamo analizzato nelle caratteristiche peculiari, come sta in campo. Noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo giocare veramente con grande accanimento, con grande cattiveria agonistica, con grande lucidità, perché come ho detto prima, adesso è il momento di quagliare, ecco, quindi adesso i punti non si possono perdere, non li dobbiamo perdere.